Ero curioso di sapere da dove nasce? Ma in realtà da tante cose, cioè principalmente arriva da Tekken, però poi io gli ho associato diversi altri significati Il significato primario che io gli do è quello di pecora nera, perché è un giglio nero, i gigli sono bianchi, non esiste il giglio nero Mi dava l'idea proprio di qualcosa che non riuscisse a fittare, a incastrarsi bene con il resto del mondo, ok? Il giglio nero non esiste, diciamo che lo fanno, l'incrociano finché non esce fuori, un misfit, esattamente Qualcosa che non si incastra bene con il resto, perché in generale tutte le cose che mi piacciono non si incastrano bene con la mia persona nella società Sembra una stupidata, però faccio un esempio, io amo ballare, mi piaceva, non lo faccio più ormai, però mi piaceva Mi piaceva andare in discoteca per ballare, ero una di quelle poche persone che veramente andava in discoteca per ballare e non per cuccare, ok? E questa cosa mi rendeva sempre sfigata agli occhi di conoscenti, non dico amici perché agli occhi degli amici non sei mai uno sfigato Però agli occhi delle mie conoscenti e dei miei conoscenti mi rendeva un po' una sfigata Perché spesso e volentieri quando andavamo a ballare magari altre ragazze, ragazzi con cui uscivo si mettevano magari al tavolo a chiacchierare col drink in mano Io invece prendevo la mia amica per il braccio, la tiravo in mezzo alla pista e ballavamo magari fino alle 5, le 6 del mattino Ho saputo dopo che mi prendevano per il culo questa cosa, che facevano, ah perché stare un'esibizionista, le piace stare in mezzo alla pista, a ballare in mezzo a tutti gli sfigati, no? Perché secondo loro io ero una sfigata in mezzo agli sfigati, no? Perché per loro quelli che ballavano in mezzo alla pista erano degli sfigati Quindi in generale sì, abbastanza clown loro, col seno di poi ci sono arrivata Io me ne fregavo, cioè sapevo che loro dicevano queste cose di me, ma me ne sono sempre fregata Perché a me piace ballare, quindi per me, cioè, che cosa c'è di male scusami ad andare in discoteca per andare a ballare in pista? E no, per loro era una cosa da sfigati perché dovevi essere invece, no? Dovevi fare il figo di fianco al divanetto o al bar o al tavolino a fare social relationship con la gente, ok? Quindi in generale io ho sempre amato il giro delle discoteche, ne ho girate tante, andavo al Peter Pan, al Coccorico, andavo alla Baia Imperiale, al Papete Beach, a Milano Marittima Ho sempre girato tante tante discoteche da brava riminese e mi è sempre piaciuto andarci, proprio perché amo tanto ballare Questa mia passione per il ballo mi ha, cioè, agli occhi degli altri ero vista come quella strana Non per il gaming, eh, cioè poi c'era anche il gaming, quindi figurati Ma a prescindere dal gaming, cosa di cui non parlavo mai con le persone con cui uscivo per andare in discoteca perché nessuno di loro giocava ai videogiochi, quindi che cosa parli da solo? Quindi sì, qualche volta l'avevo accennato, poi quando ho capito che a nessuno fregava niente me lo tenevo per me Però, ecco, io uscivo comunque con queste ragazze e questi ragazzi che amavano fare le 8 del mattino magari per... girando diverse discoteche E poi andavano al bar a fare colazione, che bello andare al bar a fare colazione la mattina dopo, madonna, col bombolone caldo, bellissimo Diciamo che ero sempre vista come quella, come l'outsider, no? Quella un po' strana Perché volevo andare a ballare in mezzo alla pista e non volevo stare a chiacchierare con loro al tavolo Sta roba gli dava noia, non so per quale motivo, gli dava fastidio Purtroppo ad alcune persone, quello che non è... non so neanche come dirlo, quello che non si incastra con la massa ha paura Non so, probabilmente le spaventava sta roba perché non la comprendevano Non capivano perché io amassi stare in pista, magari tutta la sera Non comprendendo questa cosa mi prendevano in giro Ovviamente non me lo facevano davanti alla faccia, lo facevano dietro, proprio da brave merde Io ho scoperto che lo facevano, me ne sono sempre fregata, me ne sono assolutamente sempre sbattuta Poi diciamo che sta roba mi è successa in diversi ambiti, con il gaming da sempre Perché comunque io ho sempre amato giocare ai videogiochi e ci ho sempre giocato tanto Però non ero abbastanza brutta per essere una vera gamer Non ero abbastanza... non avevo gli occhiali Non ero abbastanza introversa probabilmente per essere una vera gamer Quindi diciamo che il mio aspetto fisico non si incastrava probabilmente con l'essere gamer Quindi in generale le persone al di fuori mi davano della poser Quella che faceva finta di giocare ai videogiochi perché voleva catturare l'attenzione maschile Come se me ne sbattesse qualcosa di catturare l'attenzione maschile Cioè capito? Io gioco da quando avevo sette anni e sento gente dirmi Eh ma no ma perché vuole... ha capito che così i maschi le muoiono dietro Ma che c***o me ne frega a me dei maschi che mi muoiono dietro? Cioè ma poi cosa c'entra con il fatto che mi piacciono i videogiochi? Quindi capito? Io in generale mi sono sempre sentita un po' la pecora nera Anche in classe, a scuola, ero amica di tutti... cioè amica Diciamo amica, vabbè amica, usiamo il termine amico Ero amica di tutti in classe, stavo simpatica a tutti Però non approfondivo poi la conoscenza di nessuno Perché nessuno nella mia classe aveva le mie stesse passioni Tranne quella ragazza Giulia di cui vi ho parlato tante volte Con cui ho condiviso un anno di superiori E tutte le volte uscivamo da scuola, andavamo in fumetteria a comprarci dei manga E parlavamo di tantissimi fumetti manga con lei Ho iniziato a collezionare le magic Poi però purtroppo è stata bocciata E si siamo perse di vista E mi è molto dispiaciuto Però poi in classe non ho mai più trovato nessun altro come lei A me viene da dire fittare Che non è una parola che esiste Però è la parola che meglio si sposa con quello che voglio dire Che si incastrasse così bene con me Con la mia personalità Quindi il punto è che ovunque io andassi Non andavo mai bene C'era sempre qualcosa che Non mi faceva incastrare bene con il resto delle persone C'era sempre qualcosa che non andava O non ero abbastanza Vogliosa di relazioni sociali Per stare in discoteca, nell'ambiente delle discoteche O non ero abbastanza brutta per essere una gamer Perché evidentemente Se sei un minimo carina Non puoi effettivamente essere una gamer Non so per quale motivo Cioè le persone non ti prendevano sul serio Adesso per fortuna non è più così Però raga che sono dieci anni che sono sul web Me ne sono sentita dire veramente di ogni In classe stessa cosa Quindi ecco Curo Lili Il giglio nero La pecora nera Perché Non Esatto Non rientravo in nessuno stereotipo Quindi In qualsiasi ambiente Io andassi Le persone non riuscivano a incasellarmi Ah per dire Altro esempio Io ascolto musica metal Ascolto tantissima musica metal Moltissima Cioè i miei gruppi preferiti Considerate sono Sonatartica Within Temptation Tutta la commerciale No I classici Dai Nightwish Stratovarius Rhapsody of Fire Rammstein I soliti Soad E io Amo la musica metal tantissimo E tutte le volte Bastavano i primi tre nomi E tutte le volte Che dico Eh però Insomma Questo pezzo che ne so Broken dei Sonatartica O San Sebastian dei Sonatartica Mi piace da morire Ogni volta che cito Magari un pezzo Di musica metal Tutte le volte Mi sento rispondere La stessa cosa Anche quando Per dire posto una storia Su Instagram Dove metto I disturbed Che amo alla follia Metto i disturbed sotto E un sacco di gente Che mi scrive Ma dai Ma non sembri una Che ascolta musica metal E io tutte le volte E io tutte le volte Sono lì tipo Ma Perché come dovrei sembrare Perché non mi metto Lo smalto nero Non mi metto Il rossetto nero Non mi Non mi faccio Il cerone bianco E non vado in giro Con l'impermeabile Di pelle nera Quindi ecco Cioè Ovunque vado Qualsiasi cosa faccio Evidentemente Io non Non fitto Non mi incastro E quindi sta roba Manda fuori di testa Le persone Perché non riescono A Incasellarmi E quindi io mi sono Sempre sentita Un outsider Ovunque andassi Proprio per questo Mio modo di essere Che evidentemente Per la gente È destabilizzante Perché le persone Hanno bisogno Di incasellarti Hanno bisogno Che tu esprima Anche esteriormente Quello che sei Cioè io sono una gamer Quindi probabilmente Dovrei mettermi Gli occhiali Spessi così Dovrei andare in giro In curvata Dovrei mettermi Un sacco di patate In testa Andare in giro Con non lo so I capelli sempre spettinati Non lo so Cioè in generale È come se le persone Avessero bisogno Che tu esprima Subito Istantaneamente In modo Cioè In modo palese Quello che tu sei Se non ti incasellano Non ti capiscono Vieni presa in giro Io vivo da tutta la mia vita Così E uno mi potrebbe dire Eh vabbè ma no Tante volte la gente Mi risponde Eh vabbè ma scusa Che problemi hai Sei socievole Sei carina Sai parlare Cioè che problemi Che problemi puoi avere Nella vita Raga Io ovunque vado Mi sento Un pesce fuor d'acqua In qualsiasi situazione Con chiunque A fare qualsiasi cosa Devo anche puzzare Esatto Io non puzzo Quindi c'è pure Quel problema lì Questo è il perché Di curo lili Del giglio nero Della pecora nera Io stessa Non riesco a incasellarmi Le persone non riescono A incasellarmi E questa cosa Le fa sbarellare Quindi divento Sono sempre diventata Poi oggetto Di derisione Per questo motivo Perché Non riescono a incasellarmi Sì c'è sempre qualcosa Che ti rende fuori posto Io ecco Vedo che tanti di voi Hanno avuto Lo stesso problema E hanno tuttora Lo stesso problema Per questo che all'inizio Facevi solo live in inglese No 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 Facevo live in inglese Perché non c'erano italiani Dieci anni fa su Twitch Ce ne eravano pochissimi E non seguivano All variety Seguivano solo Il competitive Di lol E di counter strike Sì ma io ascolto Tanti generi musicali In realtà Diciamo che Ho più cultura metal Perché per tanti anni Ho ascoltato un bot Di musica metal Però in realtà Ascolto anche dubstep Tantissima musica classica Jets Blues Cioè proprio Mi piace la musica In generale Ci sono un sacco Di ragazze e ragazzi Con le mie stesse Identiche passioni E i miei stessi Identici gusti Lo state dimostrando Voi in chat adesso Molti di voi Hanno i miei stessi Identici gusti Semplicemente che Io sono una creator Quindi lo esprimo Al mondo Quello che mi piace Tanti altri non lo fanno Quindi rimane Semplicemente nascosto Ma ci sono tantissime ragazze Ragazzi a cui piacciono Le stesse cose Che amo io Uguale uguale Esatto Qui molti Vabbè ma è normale Tra simili ci si piglia Io dico sempre Normalissimo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti